La cultura sui nostri territori è molto importante, è un volano di crescita soprattutto per i nostri ragazzi ma è anche un'occasione per fare economia su questi territori che hanno una storia, che hanno sfruttato poco. Con noi c'è il sottosegretario ai beni culturali con cui stiamo lavorando tantissimo sugli scavi archeologici di Liternum che stava in uno stato di degrado oramai da decenni, si sta cominciando a lavorare per rilanciarle, per costruire un distretto culturale. Intanto proviamo a dare anche degli esempi da seguire ai nostri ragazzi, è quello che la nostra Proloco fa da tanti anni e lo fa bene. Questa che edizione è? La quindicesima edizione, quindi chiedevo consigli alla regia, quindi un evento che oramai è consolidato. Grazie a tutti!